La protesta dei Forconi in Puglia in particolare ieri è continuata con azioni anche incisive se non addirittura violente e forse continua anche oggi. Facciamo il punto. Negozi aperti sotto scorta, città paralizzate, cortei e inchieste. Prosegue non sempre pacificamente la protesta dei Forconi in Puglia. Assediate Barletta e Andrea dove le attività commerciali hanno riaperto solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine dopo la serrata imposta martedì scorso da manifestanti. Episodi sui quali la procura di Trani ha aperto un'inchiesta che breve potrebbe sfociare nell'iscrizione nel registro degli indagati di un gruppo di facinorosi. Le accuse potrebbero arrivare al sequestro di persona nei casi in cui i manifestanti hanno bloccato l'uscita della gente dai negozi e interruzione di pubblico servizio per i blocchi ferroviari. Anche ieri interrotta per due ore la linea all'altezza di Bisceglie. I disordini sono stati oggetto di un incontro chiesto da Cigelle e Cisle Wille con il questore di Bari, Domenico Pincello, che ha ribadito il controllo da parte della polizia e sottolineato che gli episodi di violenza non saranno tollerati. A Cerignola decine di tir hanno paralizzato la città. I camion hanno seguito il corteo di commercianti e studenti che si è snodato nel centro abitato. Momenti di tensione all'ufficio postale dove qualcuno ha impedito l'ingresso dei cittadini. Una bomba carta è stata posizionata davanti ad un supermercato. È proseguito invece senza particolari incidenti il presidio dei forconi sulla tangenziale di Bari. La protesta è arrivata anche nell'ipermercato Oshan di Casamassima, un'iniziativa pacifica. I manifestanti, in accordo con la direzione, hanno distribuito volantini e letto un messaggio per spiegare ai cittadini del centro commerciale le ragioni della rivolta. Anche a Lecce blocchia Singhiozzo. In Basilicata resta il presidio sulla Basentana. La circolazione viene rallentata e vengono distribuiti i volantini, ma non si registrano disagi.